Salve, io sono MonkeySimon e Fortnite è pieno zeppo di riferimenti alla cultura popolare, ai meme, ad altri videogiochi e al cinema per mezzo delle skin, delle emote e di tutti gli altri oggetti di gioco. E in questo video andremo ad elencare 10 riferimenti al cinema in Fortnite che sono particolarmente interessanti. E ho detto andremo perché questa volta non sarà da solo, ma a supportarmi in questo video ci sarà il buon Pazzox, che ringrazio non solo per la partecipazione ma anche per avermi aiutato a scovarne alcuni. E iniziamo passandogli subitissimo la parola. La skin di Jonesy Elfo, ispirata al personaggio interpretato da Will Ferrell in Elf, un elfo di nome Buddy, film del 2003. La maestosa e suprema skin di Jonesy Grasso è un insieme di citazioni. Molti pensano sia ispirata da Thor di Endgame, ma non è così. O almeno non del tutto. La skin trae spunto da un film cult del 1998, Il Grande Lebowski, da cui è stata presa ispirazione persino da Endgame per il personaggio di Thor. Infatti nel film c'è un breve scambio di battute tra Iron Man e Thor, dove il primo dice, il bagno è sulla destra, Lebowski. Mentre la citazione al film Marvel, oltre che ad introdurre altre future collaborazioni nel gioco, è anche una restituzione del favore per la citazione di Fortnite in Endgame. Prima delle collaborazioni ufficiali, Epic introduceva nelle prime stagioni delle skin che ricordavano molto dei personaggi del cinema. Ruggine nella season 3 è una di questi, visto che ricorda molto Starlod dei Guardiani della Galassia. Infatti il suo nome in inglese è Rustlord. Inutile dire che il mietitore della season 3 è un John Wick senza licenza, probabilmente usato soltanto da chi vuole far vedere che è un tryharder. La skin di Jonesy Dinosauro è una citazione alla scena dei veloci raptor in cucina di Jurassic Park. La si può capire dalla schermata di caricamento che ricorda proprio quel momento. La schermata di caricamento di Asso, invece, cita la locandina del famosissimo film cult del 1983 Scarface, ma non solo, anche il dirigibile nel trailer della season 9, quello con la scritta The Future is Your, è un riferimento a quel fantastico film. Il ballo della season 4, Vai col ritmo, è ispirato dal film del 2004, Napoleon Dynamite. Mentre il ballo del perdente è una citazione a Pennywise nel film di It del 2017, anche quella di Natale. L'intero pass-battaglia della stagione 4 è una citazione. Uscito nello stesso periodo di Avengers Infinity War, la Epic ha saggiamente deciso di capitalizzare sul film che ha monopolizzato la cultura popolare di quel periodo, Carburo e Iron Man, caposquadra Occhio di Falco, mentre il soldato con la benda sull'occhio ricorda vagamente Thor. Valore, invece, è Wonder Woman, anche se con la Marvel non c'entra nulla. Infine, sembra che Donald Mustard, presidente di Epic Games, sia un grande fan di Quentin Tarantino, visto che in game sono presenti tantissime emote provenienti dai suoi film, come Confuso, che sarà stata introdotta per via del meme con John Travolta, proveniente da Pulp Fiction, ma anche Twist, dove non si tocca e non fare i rompi, tutte quante sempre da Pulp Fiction. E l'emote della camminata che provene dalle Iene, il film, non il programma di Mediaset. E chicca bonus nelle stories di Pazzox, la scena in cui Ruggine, Jonesy e Banana si puntano la pistola a vicenda, è un piccolo omaggio a Quentin Tarantino e ai suoi stalli alla messicana, cioè quella situazione in cui tre o più persone si puntano la pistola a vicenda, elemento per niente ricorrente nei suoi film. Che dire pazzoidi? Ringrazio ancora il buon Pazzox per aver partecipato a questo video e per avermi aiutato anche con le clip per le skin e per le emote che non possedevo, trovate tutti quanti i link in descrizione, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questa tipologia di video e se ne volete altri e vi do appuntamento ad un prossimo video. Grazie!